guardate cosa strana quello che fa Ines la mia chihuahua di un anno con Margot di cinque anni che ha avuto la terza cucciolata guardate che comportamento particolare ha Ines guardate che fa la prima volta che vede una cosa del genere lei è femmina anche o è gelosa di Margot oppure io mi do una strana voglia di maternità chissà che ne direbbe l'etologia Ines Ines non sono i tuoi cuccioletti non sono i tuoi amore mio non sono i tuoi anche tu diventerai mamma dai esci dai vieni dai lascia stare Margot guardate ritorna e Margot zitta zitta accetta tutto questo Margot ma che vuole che vuole Ines tu non senti niente qui dentro dai vieni dici di nuovo dai vai 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 E ritorna e Margot non gli faccia niente non mi fanno ma che vuole che vuole Stanno lasara battando i cuccioli E Rines passa ora e ora e così vicino a Margot Margot che vuole, che vuole, che vuole Ines Ines si è appesa devo avere pure i tuoi cuccioletti o vuoi tornare bimba, cuccioletta pure tu che cosa meravigliosa sono meglio degli uomini veramente, degli animali Ines 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 Margot, che vuole Ines Margot si è appesa, Ines, guarda, guarda tu non ce l'hai le nennine, Ines Ines va bene, dai, non ti preoccupare, no, non ti cocccio più, dai se Margot vuole, che fai così lei è la padrona ti lascio stare, però non besticciate avete visto? una cosa veramente bellissima, straordinaria ciao Margot ciao Ines ciao Ines 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 Ines